Quello è stato il momento nel quale hai avuto la percezione dell'enormità del momento di quello che ti aspettava? La percezione c'era durante tutto un mondiale e è chiaro che più si va avanti più si va verso la finale più questa sensazione sale in maniera esponenziale per una finale incredibile per una finale io mi ricordo mentre eravamo nel sottopassaggio che avevo praticamente il pallone di fronte dietro al pallone c'era la coppa del mondo sentivi il silenzio assordante di quel momento dove percepivi le due nazionali dietro di te i campioni che ci sono alle tue spalle e allo stesso tempo la forza delle nazioni.